Ansa, Rimini, 12 DIC, Serena Grandi è stata rinviata a giudizio per il fallimento, dichiarato nel 2015, della società Donna Serena SRL che ha gestito il ristorante La Locanda di Miranda, nel borgo San Giuliano di Rimini. L'attrice bolognese, 59 anni, all'anagrafe Serena Fagioli, difesa dall'avvocato Cristian Guidi, sarà giudicata a partire dal prossimo 12 giugno davanti al Tribunale Collegiale. Stando alle accuse, Serena Grandi, in qualità di legale rappresentante della società Donna Serena avrebbe distratto parte dei beni strumentali, impiegati presso il ristorante, e sottratto i libri contabili e altra documentazione obbligatoria per legge relativi alla gestione della Locanda di Miranda. La procedura fallimentare della società è ancora in corso davanti al Tribunale Fallimentare di Rimini.